Forza Italia si presenta compatta in conferenza all'emiciclo ad annunciare una serie di misure e emendamenti che il gruppo inserisce nel progetto di legge 118 in discussione. Oltre al presidente del Consiglio regionale Sospiri c'erano Pagano, Martino, D'Annuntis, Damario, Febo e De Angelis. Il gruppo propone un emendamento per aumentare il sostegno alimentare con ulteriori 100.000 euro, un nuovo stanziamento di 250.000 che include empori sociali e associazioni che gestiscono menze. Viene inserito un supporto economico di 300.000 ad associazione denti per la prima infanzia a fondo perduto, prevista la creazione di un fondo eco bonus, sisma bonus, per compartecipare alle spese che gli enti pubblici potranno sostenere per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici pubblici, un milione e mezzo di euro. E poi ancora la creazione di un fondo da un milione di euro per i comuni abruzzesi, con particolare riguardo a quelli definiti zona rossa. In accordo con lo sport ha previsto un fondo per il sostegno alle associazioni culturali e sportive, 3 milioni di euro, 2 milioni allo sport, 1 milione alla cultura, qui seguirà un bando. Ci sarà pure un fondo da destinare alle imprese che operano nel campo delle informazioni, attività che saranno destinatari di appositi finanziamenti regionali a fondo perduto, 420.000 euro. Uscirà il bando gestito dal Corecom, da segnalare poi la copertura, con circa 3 milioni di euro per l'orogazione finanziaria delle borse di studio per tutti gli studenti universitari meritevoli, contributo che andrà alla DSU abruzzesi. Beneforica e Forza Italia è il collante di questa maggioranza e ci mette tanto buonsenso, tanto cuore e tanta testa. E aiuterà il governatore Marsiglio a barare, si spera, nel più breve tempo possibile, ovvero in questa settimana, una norma che parte da 53 milioni di euro, arriva secondo noi a 100 in poco tempo e si occupa di dare respiro alle nostre partite IVA, universalmente esistenti, a chi è più in difficoltà, agli asili privati da 0 a 6 anni, agli operatori dello sport, della cultura e di inserire alcune leve che facciano ripartire le attività interne delle nostre imprese artigiane, come il Sisma e l'Eco Bonus sull'edilizia pubblica. Insomma, è un pacchetto di misure che noi sentiamo profondamente vicino al nostro modo di vedere la vita. Per Febbo l'Abruzzo riparte, il 90% delle imprese sono ripartite e la regione Abruzzo si è caratterizzata per le sue ordinanze ordinate, nessuna è stata impugnata, precise, ragionate e di buonsenso. Forza Italia, per Pagano, si è caratterizzata per incisività, senso del dovere, per le necessità del mondo dell'impresa, dei dimenticati e degli ultimi. Martino ha sottolineato invece come si stia lavorando ad un progetto importante, un patto fiscale, un sistema a tre fasce, per dare slancio alle imprese. Si è parlato anche della commissione inchiesta, importante per i presenti riguardo alle banche. Ci permetterà di essere vigili, hanno detto, di avere segnalazioni, controllare che tutto vada nella maniera giusta.